Il paradiso delle signore, trama puntate, giovedì 16 dicembre 2021. Dopo aver fatto questo importante passo avanti con le sue indagini, Flora non esita e decide di andare a scoprire cosa si nasconde nella cassaforte dei guarnieri. Prima di farlo però la giovane parla con Umberto e Agnese di suo padre. Quello che scopre dalle loro parole sulla persona che era Achille la turba profondamente. Così la giovane decide di non aprire, almeno per il momento, la cassaforte. Tina annuncia a tutti che non si opererà e che si occuperà in futuro del problema della voce, qualora se ne dovesse presentare l'occasione. Infatti è troppo preoccupata per le condizioni di Agnese e decide di starle accanto. Gemma e Stefania si mettono d'accordo sul fatto che ora che Veronica e Ezio ufficializzano il loro rapporto. Le due ragazze pensano a qualcosa. Intanto Nino appende all'albero un bigliettino come ogni anno, come vuole la tradizione. Dora non resiste alla curiosità e lo legge, ma la resta molto turbata. Armando lo è altrettanto e ha intenzione di chiedere spiegazioni a Nino. Certo che nella vita dei giovani seminarista stia succedendo qualcosa di molto grave. Gemma intanto apre il suo cuore a Marco e gli racconta degli aneddoti del suo passato. Grazie a tutti.